Ehi tu, amico di YouTube, ciao! Ciao qualora stassi vedendo il video mattina, pomeriggio, sera, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Sei qui oggi per vedere un'altra card review fatta da Poli, quindi prima di iniziare il video metti un commento che ho scritto Aragosta e poi lascia un like, un commento e iscriviti al canale e tutto quello che c'è. Prima di iniziare ti devo dire anche un paio di cose, ovvero che tutte le carte che io sto per valutare, vi ricordo che io le conosco già, perché ho già visto l'espansione, quindi le valutazioni saranno un po' diverse, Cioè valuterò la carta per quello che è e per quello che fa. Seconda cosa vi ricordo che tutti gli spoiler delle carte lo potete trovare qua sotto in descrizione, c'è un link che è il mio Instagram, che è questo, poli.hs, praticamente tu premendo, cercando poli.hs su Instagram, nelle storie, ogni volta che esce una carta io la metto, anche se sono in live, mi prendo un secondo per condividerla. Aspetta che prendo aria perché faccio fatica a parlare, quindi mi raccomando seguimi su Instagram, così sei aggiornato sulle carte e anche su tutte le volte che sono in live. Appunto queste recensioni vengono fatte in live su Twitch, quindi link in descrizione e seguimi anche su Twitch. Seconda e ultima cosa, vi ricordo ragazzi che tutta l'espansione è preacquistabile, preacquistabile tramite gli Amazon Coins. Gli Amazon Coins sono una valuta che vende Amazon per conto di Amazon, che se li vende per conto di se stesso, e servono per acquistare il preorder dell'espansione risparmiando soldi. Quindi visto che Gesù vi vuole bene e io vi sto offrendo degli sconti su un piatto d'argento, cazzo usate sti cazzo di Amazon Coins. Ok, se voi acquistate l'espansione con gli Amazon Coins risparmiate dal 15 al 23% sul preorder. Quindi per l'amor di Dio fate i preorder con gli sconti selezionati. I link per usare gli Amazon Coins sono in descrizione, voi invece che siete in live su Twitch.esclamativocoins usate i coins per l'espansione. Se non li usate siete fondamentalmente degli idioti, perché spendete più soldi per avere la stessa cosa che abbiamo noi, che ne spenderemo molto molto di meno. Detto questo, prima carta. Prima carta di oggi, ragazzi, oggi non ce ne saranno tante, perché Blizzard non ne ha rivelate tantissime. È un 3 mana 2-2, Comandante Fauci di Drago. Alla fine del tuo turno, più 2-2 ha un altro servitore casuale. Questa carta si può tranquillamente, diciamo, legare a una carta che già avevamo visto in passato, ovvero a una carta presente su Cavalieri del Trono di Ghiaccio, che era una 2 mana 2-2, che dava più 1-1 a un altro servitore. Quello lì era forse un po' più forte, però mi viene da dire. Era più forte per il semplice fatto che potevi giocare la turno 2, potevi fare coin e il 2-2 subito, che se non veniva contestato, già in follow-up iniziava a essere forte, magari con la Chierica, magari con Loot Order, magari con qualsiasi cosa che ci andavi a giocare a turno 1 e 2, in quel tipo di mazzo, che ovviamente era basato sulle statistiche. Ora, come ben sappiamo, la Chierica sta per andare in allo fame, visto che il prete subirà un importante rework la settimana prossima. Quindi, carte che buffano, minion, fino a che voi non vedete minion economici buoni, purtroppo non hanno un minimo di valenza. Quindi, il comandante falci di Drago, sebbene sia forte, visto che è un 3 mana, minimo 4-4, visto che non lo giochi mai se non hai niente in board, e che probabilmente può diventare facilmente un 6-6-8-8, più 2-2 ogni turno, intendo 4-4 perché dà più 2-2. So che c'è scritto che non può buffare se stesso, però, per dire, avete capito. Spero che non siate stronzi. Quindi, ragazzi, non è male, però, ripeto, fino a che non vediamo dei servitori buoni a 2 o dei servitori buoni a 1, è una carta che di per sé è buona, ma non capiamo quale sia l'applicazione. Potrebbe essere un'applicazione futura, magari in una sorta di deck mid-range, basato sulle statistiche del Priest, magari ne potremmo vedere, visto l'arrivo di moltissime carte di una nuova espansione, oppure magari un giorno è una carta che potremmo tranquillamente prendere e vedere su Battleground. Una carta che per Battleground, questa è veramente perfetta. Il mio voto per questa carta rimane comunque abbastanza buono, perché rimangono 3 stelline dorate, 3 stelline Michelin, e quindi questo è il voto, e andiamo alla prossima. La prossima carta è canna da pesca del Fiocaluce, che è un'arma per il paladino. Molti di voi su Instagram mi avete chiesto, ma è neutrale? È del druido? È del warrior? Perché è del warrior? È giallo, il contorno è giallo, vuol dire che è del paladino. Dopo che il tuo eroe ha attaccato, mette nella tua mano un murlock casuale. Inoltre, questa è una simile, è un'arma 3 mana 3 2, che sappiamo nel passato essere comunque stata, tutto sommato, un tipo di arma 3 mana 3 2, non male. Ok? Allora, questa carta, l'ho appena detto ai ragazzi di Twitch, purtroppo ha un problema. Valutare questa carta senza potervi dire quello che io so è difficilissimo. Difficilissimo. Ci sono tre cose, soprattutto una di queste, che aumenterebbe di molto la valutazione di questa carta. Però, il discorso qual è? Il discorso è che il paladino, in generale, di murlock, ne ha, non ne ha, sapete, c'è sempre quel fattore strano che a volte gli danno dei murlock, a volte no, non si sa che murlock sono, sono buoni, non sono buoni. In generale i murlock non sono più buoni da un bel po', perché non c'è quel tipo di, diciamo, di sostegno che avevo una volta. L'unica versione murlock che funziona nel paladino è quella, quella spella 8 che ti caga tutti i murlock dal deck. Però, essendo molto simile all'ancora dei pirati, che ha, appunto, ti fa pescare dei pirati dal mazzo, questo qui però ti fa generare dei murlock casuali. Questo può essere un bene perché crei nuove valore, perché generi carte dal nulla. È un male però perché potrebbero essere dei murlock di merda, potrebbe essere l'1-1 con reborn, potrebbe essere, che cazzo ne so, quello che se hai un drago in mano fa qualcosa e se non hai draghi è un quattro mana tra i tre di merda. Quindi, nella media è un'arma buona. È un'arma alla quale io posso dare tranquillamente la terza stella, un po' regalata la terza stella sicuramente, però probabilmente la terza stella se la può meritare. però sappiate che se io vi potessi dire il altro, questa carta avrebbe una valutazione molto più alta. Probabilmente, scusate la luce che è esplosa, avrebbe una valutazione molto più alta. Io purtroppo non posso dire nient'altro, dovete solo sperare che in questa espansione ci siano murlock, che i murlock che vedrete siano forti, dovete sperare che siano tanti e siano molto validi per farti giocare appunto questa cosa. Signori, Canna del Pesca del Fioccaluce, tre stelle per il momento. Ci diciamo che su questa carta ci torneremo quando faremo la mega card review finale con tutti gli altri streamer. Idra della Palude. Questa carta è una merda. Fine. La recensione poteva chiudersi qui. La recensione può chiudersi qui. Non sto scherzando. Non sto scherzando. Io non so perché quando è uscita questa carta su Instagram, su Telegram, su YouTube, negli stream, la gente ha iniziato a dire cazzo 7 mana 7-7 rush che per carità è forte dopo che è attaccato ti mette in mano un drop 8 casuale. Ma voi sapete quanta merda c'è a 8? Per carità a 8 c'è tanta roba buona ma c'è anche tantissima merda e soprattutto so che alcune cose fanno ancora più cagare. È vero che non c'è più il pipistrello per carità ma anche tante cose buone che ci sono ruotano tipo il picchiatesta non c'è e soprattutto non ho capito perché la gente pensa che tu c'è il drop a 8 automaticamente lo giochi devi spenderci 8 mana per giocare quel drop a 8. È una carta fantastica in arena ma per quello che pushano che sta cercando di pushare questa carta poi voi non potete sapere se ci sono altre carte che pushano questo questo meccanismo o se magari invece come si dice è l'unica che pusha vi garantisco che è lentissima cioè è lentissima in un big non la vuoi giocare nel big druide è troppo lenta cioè se te la regalasse la droga il drop a 8 se costasse 0 ti dico vabbè è OP vabbè però in generale fai vedere la tabella che ti ho mandato ecco vediamo insieme la tabella di tutte le carte grazie Sirius che al momento ci sono vabbè allora in generale di buono a 8 cioè di brutto 8 ne è pieno ne è proprio pieno la metà di queste non vanno bene e soprattutto ragazzi voi mi dite eh vabbè ma la volta in cui ti da Tyrion sì però ragazzi la volta in cui non ti da Tyrion ma ti da 8 mana 5-5 8 mana 4-4 8 mana il piccatesta rimane su serio ah il piccatesta rimane scusate il piccatesta rimane 8 mana 6-6 raddoppia Windfury nel momento in cui ti da queste carte e soprattutto nel momento in cui ti da magari molte altre carte che stanno per essere annunciate ragazzi sta carta è una merda io l'ho giocato il big druid in America l'ho provato almeno anche con carte come questa e non ha funzionato mi ha proprio deluso prende schiaffi da chiunque ho preso schiaffi da ogni demon hunter da ogni aggro no fine carta che per me è bocciata carta che non capisco perché la gente la adora cioè ho capito che avere Tyrion è bello ma tutte le volte in cui non ti da Tyrion o non ti da uno di quei drop perfetti te lo prendi nel culo da big druid ok detto questo punto è al capo e andiamo alla prossima come avete visto negli episodi precedenti delle card review stanno uscendo tante carte a tema diciamo segreto per il rogue come avete capito l'avevo anche già detto il rogue sarà molto forte secondo me nella prossima espansione come ripeto sempre io conosco tutto il set quindi so già cosa sta per arrivare e il gioiellere oscuro Anar dice 2 mana 1 5 che è un sacco 2 mana 1 5 è veramente un botto 2 mana 1 5 dopo che hai giocato un segreto rinvieni un segreto di un'altra classe no ma il miss creanta turno 3 era troppo forte esatto praticamente voi dovete sapere una cosa ci saranno un po' di segreti per il rogue non posso dirvi quanti ma vi voglio garantire una cosa i segreti del rogue sono tutti buoni vi garantisco ragazzi che siano 3 4 5 6 sono tutti buoni i segreti del rogue se sono 3 vuol dire che ne hai 6 nel mazzo se sono 4 vuol dire che ne hai 8 perché li metterai sicuramente in doppia copia ok quindi gioiellero scuro garantito da by poly che si attiva un paio di volte di media si attiva un paio di volte io voglio farvi notare una sinergia che magari non l'avete colto tutti c'è scritto dopo che hai giocato un segreto rinvieni un segreto di un'altra classe a parte rinvieni quindi puoi scegliere io non so se avete capito bene cosa significa significa che io gioco 2 mana gioielliere 2 mana 1 segreto del rogue che ripeto giocherai sicuramente poi ci giochi magari prendi un segreto del pala che costa 1 e ne rinvieni un altro prendi 1 del 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 cacciatore e ne rinvieni un altro prendi 1 del rogue e ne rinvieni un altro prendi 1 del mage e ne rinvieni un altro Se sta cosa non viene fermata ti continua a generare segreti su segreti su segreti a scelta che il cavaliere dei segreti di merda di una volta, il challenger, può accompagnare solo. Vi garantisco che sta cosa succederà fin troppo spesso perché sai adesso arriva la rotazione, molti segreti se ne vanno perché la rotazione porta via circa 370 carte, può rimanere in vita con Redemption, se lo attaccano magari si duplica con la Sprite in Image, può rimanere in vita con un'altra carta di merda, quella che dà Scudo Divino non c'è più, però magari rimieni Freezing Trap quindi se te lo attaccano ritorna in mano. Oppure evochi dei serpenti, evochi un veleno per il nuovo segreto, ci sono un milione di combinazioni con sta carta e ripeto fa tutto da solo, ti basta un segreto per iniziare la catena e basta, i segreti li avrai perché ti ripeto che tutti i segreti del Rogue sono opi, ci sono una valanga di carte, ne avete già viste un po', che sinergizzano con i segreti del Rogue, questa carta ragazzi merita a mani basse 5 stelle. È fortissima nel secret Rogue che magari prende forma, vi garantisco essere rotta nel culo, con questa attivi anche la tipa di ieri che fa più 2, che fa rimbalzare in mano un pezzo e lo fa costare 2 in più. Ragazzi sta carta è sbroccatissima, nerf già telefonato appena esce l'espansione, 2 settimane la nerfano, gli riducono la vita o gli aumentano il costo perché ragazzi non può una singola carta, che vi ricordo potrebbe essere giocata paradossalmente a 10 mana, riempirti la borde di alberi di Natale con una carta. Perché giochi un segreto, ti puoi tenere da un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro, cioè se tu usai il culo o prendi tutti quelli del paladino, porca troia c'hai un albero di Natale di vari colori. Ragazzi, Rogue, questa espansione spaccherà il culo, basta, dico nel palco. Imp dei Rottami inibito, carta dormiente per il nostro amico stregone, 2 mana, 3-3, quindi molto economico come minion dormiente, dorme per due turni, vi ho già spiegato cos'è dormiente, chi mi lo chiede lo in culo col sabbione, quando si risveglia da più 2 più 2 ai servitori nella tua mano. Questa è una carta molto buona, se non sbaglio questa quando ero in America non era così, ho un ricordo certo che dicesse che da più 2 più 2 solo ai demoni, ok? Però magari mi confondo con il concilio dell'ombra che abbiamo già visto ieri, la spella 1 che sostituisce le carte con i più 2 più 2. Questa carta ragazzi non è affatto male, è molto lenta perché purtroppo ti baffa la mano solo quando sei a turno 4, come tutti i minion dormienti. Sono estremamente lenti perché i giochi non fanno nulla, però tutto sommato sono carte, è una carta che però si fa diciamo ben presto ripagare del suo costo. Diciamo che essendo molto economico il costo del suo addormentamento ed essendo inoltre una carta per il lock che può tranquillamente giocarle in un archetipo aggressivo e mentre lui dorme, pescare carte tramite mortal coil, tramite le sue cagate, generare dei lacche nella mano o fare life tap, poi quando lui si risveglia appunto li ripotenzia. È una carta che in realtà è molto forte, io quando ero in America ripeto, mi sembra fosse che desse più 2 più 2 solo ai demoni, in realtà visto che c'è scritto che da più 2 più 2 a tutti i servitori nella tua mano, è molto molto buono. Molto molto buono che credo che a tal punto si possa meritare. La quinta stella no perché tutte le carte dormienti sapete che hanno il problema che le giochi non fai nulla, perdi tempo, poi magari tu sapendo che si sta per risvegliare magari fai dei turni lenti quindi diventa lento al quadrato, però la quarta stella se la porta tranquillamente a casa, un minion che per il costo che ha può dare un buff veramente importante alla mano e soprattutto ti lascia giù un 3-3 in board che sai, schifo del tutto non fa. Bisognerà un attimo vedere come sarà l'espansione dal punto di vista di aggressività, come sempre i minion dormienti hanno questa caratteristica che se il meta dell'espansione è aggressivo, ovviamente loro quando li giochi ti si inculano, però se il meta non sarà eccessivamente aggressivo, che purtroppo io ve lo vorrei dire ma non lo potete scoprire fino a che non arriva l'espansione, e se in generale appunto il lock vorrà baffare tanto i pezzi nella sua mano, la che, demoni, pezzi, mech, che cazzo ne so, il limpa dei rotami inibito è sicuramente una carta che si può permettere di giocare addirittura in doppia copia un mazzo come il nostro amico Gul'dan, il limpa dei rotami promossa abbastanza va bene. Diciamo bene. Signori miei, Alar, leggendaria dalla quale prende il nome l'anno, Anno della Fenice, ve l'avevo già detto su Twitch, chi mi segue su Twitch lo sa, avevo già spoilerato che se fosse stato Anno della Fenice sarebbe stato al 99% grazie ad Alar. Vabbè, grazie al cazzo, già lo sapevo, quindi troppo facile. 5 mana, 7-3, elementale, rantolo di morte, evoca un servitore, 0-3, che risuscita questo servitore all'inizio del prossimo turno. Che cosa significa? Un'omana, quando lei muore, lei muore e al suo posto rimane Ceneri di Alar. Ceneri di Alar è un'omana, 0-3, che all'inizio del turno si trasforma in Alar. Quindi, se tu non uccidi Alar e l'uovo lo stesso turno, questa qua, in eterno, continua a tornare, a girare in eterno, a resuscitarsi, eccetera. Allora, non aprirò una parentesi relativa a quelli che pensano che Blizzard abbia copiato Riot, visto che questa carta esiste su World of Warcraft dal 2007, e la meccanica, appunto, è esattamente quella del suo boss, cioè che se la uccidi, non uccidi le uova, lei continua a rinascere, eccetera. E quindi, chi dice che ha copiato Riot, Blizzard, praticamente mangia la merda sotto ogni punto di vista. È una carta che sembra veramente brutta, non è veramente brutta, però non è neanche veramente bella. Ok? È una carta che, purtroppo, il fattore 3 HP lo penalizza veramente un sacco. Non è difficile, purtroppo, su Hearthstone, in media, che tu sia un aggro, che tu sia un control, che tu sia un midrange, fare il quantitativo 3 di danno. Si fa veramente molto, molto facilmente. Molto, molto facilmente. È anche vero che, però, lo devi fare due volte, se vuoi rimuovere Alar. Chiaramente lei è una carta che, se non rimuovi nello stesso turno, già ha acquisito value. Cioè, se io già gioco Alar, tu me la uccidi una volta, però non uccidi l'uovo, già lei si è ressuscitata una volta, quindi già ti ha rubato del valore. Se succede di nuovo, probabilmente ti sto già spremendo come una spugna, soprattutto per il suo grandissimo valore di attacco, ovvero 7. È una carta che, però, è inutile girarci attorno. Sebbene sia difficile fare due volte tre danni, e sebbene, appunto, abbia tanto attacco a 5 mana, è abbastanza buono, signori, è una carta che difficilmente riusciremo a vedere tanto e in modo forte. E di per sé non è veramente forte. Non fa schifo, come dice la gente, cioè non si merita una o due stelle. Purtroppo non se ne merita neanche quattro. Credo che la valutazione seria sia 3. È 3 perché, come sempre, molti mazzi possono sinergizzare con l'attivazione del Deatrattol. Quindi se io attivo il Deatrattol di Alar, praticamente sto per resummonare un'altra Alar. E già quando le Alar sono due, poi sono cazzi i tuoi, riuscire a rimuovere due volte due Alar e anche due Ceneri, cioè due Uova, fondamentalmente, è difficile, è soprattutto, scusate, facile per classi come il Prete, Sciamano, attivare più volte il loro Deatrattol e chissà, magari ci sono altre classi che sinergizzano con i Deatrattol. Io purtroppo non ve lo posso dire, lo scoprirete man mano che il tempo che passa. Tutto sommato è una carta che vale di più di quel che sembra e personalmente, sebbene non sia OP, con alcune carte che probabilmente voi, quando vedrete, capirete, credetemi che guadagna molto, molto più valore. Probabilmente appena vedete una carta specifica per una classe specifica che non vi posso ancora dire, capirete che migliora molto. Migliora molto perché diventa veramente giocabile, fattibile, copiabile, riattivabile in eterno e avendo anche solo tre Ceneri di Alar in board, qualsiasi control, qualsiasi aggro, qualsiasi midrange, qualsiasi OTK fa una fatica immonda a gestire tre Alar e tre Uova. La carta è buona, dovete vedere alcune carte per renderla ancora più buona. Poi chiaramente già alcune le conoscete perché sono Teron, che sono quello che quando entra spacca tutti i minion e poi li risumono a colpio 1v1 e anche poi coso anche, come si dice, anche spirito ancestrale eccetera eccetera eccetera. Abbiate pazienza perché questa carta, ripeto, è meglio di quel che sembra. Prossima. Ok signori, ultima carta di questa piccola review è la carta primitiva Prime Suprema del buon mago. La carta del mago è molto simile a quella dello sciamano circa, che dice 2 mana 3-2, quindi questa è la sua versione base, 2 mana 3-2, spell damage. Arrantolo di morte ovviamente mescola la versione grossa. La versione grossa è Solarian Suprema. Solarian Suprema è un 7 mana, 7-7, con uno di spell damage, che dice lancia 5 magie casuali del mago, se possibile sceglie come bersaglio i nemici. Ve la spiego molto facilmente. Se io gioco Astromante e Solarian, muore Astromante e Solarian, pesco Solarian Suprema, gioco Solarian Suprema, se le spell scelte sono 5 Pyroblast, targetterà per forza i nemici, perché sono 5 spell con un bersaglio, ok? Cioè che sceglie di bersagliare sempre faccia, piuttosto che minion, piuttosto che la board o che altre cose. Se però sono cose del tipo, non lo so, immaginatevi una spell con scritto fai 10 danni a un bersaglio casuale, no in realtà no, perché così non c'è scritto, non lo so. Se ci fosse una spell che fa danno su tutta la board, ok, sia mia che sua, ovviamente faranno alla board sia mia che sua, ok? Non so che esempi farvi, perché purtroppo io so alcune spell in arrivo e sarebbe bello usare le spell che stanno arrivando come esempio, ma non posso farlo. Solarian Suprema è probabilmente una delle poche leggendarie supreme che diciamo quando arriva non sbaglia mai, non sbaglia mai esattamente come quella del warrior che quando arriva non sbaglia perché rimuove, perché ti dà armatura, perché metti un pezzo grosso eccetera eccetera. Solarian Suprema fa il suo dovere perché molto spesso ti dà dei segreti, le altre volte rimuove la board dell'avversario, le altre volte congela, le altre volte fa danni faccia, diciamo che non sbaglia mai. Soffre però, oh scusate ci sono le tre stelle, non me le ho dimenticate, soffre però di un problema che è il problema comune a tutti i minion supremi, ovvero il fatto che sia un minion supremo. Il fattore supremo cioè che quando muore l'astromante Solarian, poi andiamo a mescolare la versione suprema di se stesso nel deck, è il problema che soffre non chiamandosi warrior, non chiamandosi prete, cioè non chiamandosi con una di quelle classi, anzi il prete no, visto che le ha perse tutte, che possono pescare tante carte. In questo caso il mage, lo sappiamo, non ha più book of specter, perché era di witchwood e ruota, quindi non può più pescare tante carte come lo faceva una volta, se ne va anche luna pocket galaxy, quindi pensare di giocare arcane intellect di main non è fantastico, se ne va anche luna, quindi non è fantastico visto che non puoi pescare carte dalla cima del deck, per quello che sapete voi al momento il mage pesca realmente poco. È una carta perfetta per l'archetipo Highlander, perché ovviamente tu la giochi, poi essendo una partita che durerà probabilmente tanto, probabilmente prima o poi lo peschi, quindi magari, sai, arriva e ce ne facciamo qualcosa. Il problema però è sempre quello, se non la trovi, sta carta è una merda. Sta carta stai facendo due mana, Talnos, perché lo userai per avere quel punto spell damage che tanto ti dava Talnos e ti danno anche gli altri, però fino a che non peschi Solaren Suprema, hai fatto turno 2 dove hai guadagnato solo spell damage. È chiaro, ripeto, in Highlander è forte, ma mi viene difficile immaginarvela in altri archetipi. Prima di abbandonarvi e di chiudere il video, a parte ricordandovi di lasciare un like, commento, condivisione, cazzate varie, vi voglio dire una cosa, voglio dare uno spoiler, sia a voi, sia alla chat, sia a tutti. L'archetipo del mago divertente che vi avevo detto, vi avevo anticipato sul mio Instagram tante settimane fa che il mage è l'archetipo più divertente in assoluto, vi garantisco che il mage sarà spettacolare, vi garantisco, eh? L'archetipo divertente del mage non è divertente per cose come questa. L'archetipo del mage di carte come questa non se ne fa un cazzo. Non vi dico nient'altro perché gli spoiler stanno procedendo, vedrete voi le carte che verranno rivelate man mano, ma sappiate che l'archetipo che io vi ho promesso essere super divertente del mago non è divertente per queste cose qui, lo è per altri motivi. Detto questo, buonanotte, buona serata e ciao amici di YouTube!